Radio Italia C, la radio che si vede. All'Arezzo Passioni Festival estate 2017, anche Vincenzo Ceccarelli che ha ascoltato nella prima giornata già gli ospiti più importanti che si sono susseguiti, tra cui Lercio e Emiliano Fittipaldi. Quali sono le passioni di Vincenzo Ceccarelli? Intanto voglio fare complimenti a questa manifestazione e a chi l'organizza perché sono arrivati a dei livelli di grande eccellenza. Poi per quanto riguarda le mie passioni, una scontata è la politica, ma contrariamente a quello che possono pensare molti, la politica si può fare soltanto se c'è una grande passione, una grande abnegazione. Perché la politica è anche sacrificio e disponibilità, è una sorta di vocazione laica. Dopodiché le passioni sono molte. Lo sport, per esempio, oramai più parlato che non praticato. In realtà da giovane facevo per divertimento molti sport, ora sono un grande appassionato del ciclismo e sono ovviamente appassionato del calcio. Il ciclismo, anche i nostri bellissimi sentieri toscani forse sono un frutto di questa passione. Sì, intanto bisogna dire che la provincia di Rezzo è vivacissima per quanto riguarda l'organizzazione di manifestazioni ciclistiche sia a livello professionistico che amatoriale. È la provincia che in Italia organizza più manifestazioni. Il nostro territorio si presta benissimo per poter utilizzare la bicicletta, almeno in alcune situazioni. Penso ad esempio al sentiero della Bonifica, penso alla ciclopista dell'Arno che stiamo contribuendo a realizzare, penso alle nostre colline, alle nostre montagne per quanto riguarda la pratica con la mountain bike. Per quanto riguarda il calendario di tutto il Passioni Festival, quali sono gli ospiti che verrai sicuramente a sentire? Il problema è che devo coniugare i miei impegni con questo cartellone che è veramente molto attraente e molto allettante. Farò di tutto per esserci a sentire i proietti e poi forse l'unica serata che mi è possibile sarà quella finale con Insinna, che tra l'altro mi indica un po' perché c'è un personaggio che rispetto alle dichiarazioni che ha fatto, a quello che c'è nato intorno, ho anche voglia di capire quali sono le sue idee, i suoi argomenti. Però direi che è veramente un cartellone ricchissimo che dobbiamo ringraziare Marco Meacci, Andrea Scanzi e Andrea Ciolini e voi che lo seguite perché è veramente un grande livello che viene offerto a questa città. E allora grazie Vincenzo Ceccarelli, noi restiamo appassionati con il Passioni Festival e restiamo ovviamente qui nel nostro corner di Radio Italia 5 per raccontarvi in diretta tutto quello che succede qui all'Arena Eden. Grazie ancora. Grazie a voi.